Laudetur di Jesus Christus, cari amici teleradioscoltatori e Pierluigi Bianchi Cagliesi che vi parla oggi primo dicembre 2021 per il nostro commento del giorno, un commento straordinario che vuole fare un po' un punto e tracciare un orizzonte di questo periodo che ci separa ormai dal Santo Natale, un periodo di avvento in una situazione veramente drammatica, in un periodo, in un passaggio della nostra storia che mai avremmo potuto immaginare e che ci prodispone per un Natale che sarà un Natale completamente diverso da tutti quelli che abbiamo vissuto fino alla l'anno passato proprio per l'aggravarsi del quadro generale per questo clima di persecuzione che ci immette proprio nello spirito natalizio, proprio nella parte anche della maggior sofferenza, della consapevolezza, della gravità della situazione, nella riscoperta di questo mistero, questo mistero di salvezza che si realizza proprio nel momento in cui il culmine delle sofferenze, delle prove, dell'abominio, del tradimento, delle tenebre scendono sull'umanità, il Signore torna a portare la sua luce di speranza e anche di, vedete, di prospettive di restaurazione, di resurrezione che ci proiettano poi in una dimensione che sarà quella della resurrezione che equivalerà proprio al trionfo del cuore immacolato di Maria. E la preparazione che fanno coloro che governano il nostro paese, che fanno i governanti di questo mondo, i figli delle tenebre, chiamiamoli così, che è meglio, hanno ormai scatenato tutte le offensive più repressive, più disumane, più folli che si possano immaginare, proprio in una ricerca, vedete, di un sistema, di realizzare di fatto un sistema che sia proprio la sintesi di tutti i regimi passati più feroci e più persecutori nel compimento di questa azione, vedete, di restringimento sempre più repressiva e totale delle libertà individuali, in vista, vedete, di una persecuzione vera e propria che ormai non è più un mistero, ma che cercano proprio di svelare giorno dopo giorno. E proprio per questo Natale, vedete, con l'applicazione di queste nuove norme, queste nuove misure che sono state appunto lanciate da pochissimi giorni, la parola d'ordine ormai è controllare, controllare, perseguitare e questo Super Green Pass non è parte di questo disegno che prevede questo giro di vite ulteriore, senza precedenti, proprio voluto personalmente da Mario Draghi per impedire che non esista nessun tipo di lassismo, che non ci sia nessun allargamento delle maglie, soprattutto in previsione del Santo Natale. E questo non solo nelle città, ma anche nelle province. Quindi un salto di qualità nei controlli proprio ufficializzato dall'articolo 7 del decreto legge, che mostra veramente un orizzonte sociale sempre più fosco. Ci dicono questi signori che la ricreazione è finita, ma quale ricreazione? Se non abbiamo avuto un bel niente, abbiamo avuto solo due anni di repressione e di terrorismo applicato in una maniera che mai l'Italia aveva conosciuto, in uno svelarsi progressivo di una realtà mostruosa che ha cercato, vedete, di creare un clima di terrore, di sottomissione e che adesso si appresta a colpire anche i più piccoli, anche i bambini, anche le anime innocenti che noi affidiamo al Signore e alla tantissima Vergine perché vengano protette da questa offensiva veramente diabolica. Quindi continuano a dire incessantemente nessuna deroga alla priorità assoluta per l'ordine pubblico e combattere la pandemia. Capite? Il Premier mostra questo volto prussiano, gli manca un elmetto a punta che gli donerebbe tra l'altro molto. E quindi è via libera questo ordine del Ministero degli Interni, alle prefetture, polizia, carabinieri, polizia ferroviaria, vigili urbani, tutti coordinandosi tra di loro per la caccia al non vaccinato, inseguito con determinazione quasi cerciliana. Sembra di sentire Churchill quando disse li combatteremo sulle spiagge, nei campi, nelle strade, sulle colline non ci arrenderemo mai, no? Si riecheggia questo clima, questo spirito. Adesso, dicono le stesse i rappresentanti delle forze dell'ordine, abbiamo questa priorità che vuol dire che si dovrà mollare su altri fronti come quello dell'impegno nella lotta alla criminalità perché ormai l'unico problema che esiste nel nostro Paese è la lotta, vedete, a coloro che devono essere repressi, colpiti, ridotti in posizioni di schiavitù. Questo veramente sembra ormai l'unica indicazione che giunge al Viminale e naturalmente i prefetti delle varie prefetture e province hanno ricevuto dal Ministero dell'Interno l'ordine di far rispettare subito questo Green Pass in modo rigoroso, hanno già cominciato a convocare i comitati provinciali per la sicurezza e l'ordine pubblico, riunioni ogni tre giorni, massimo controllo del territorio, relazioni obbligatorie ogni settimana che finiranno sulla scrivania di Luciana Lamorgese. E quindi sempre di più si stringono le maglie, cari amici, questo è il clima, vedete, mentre si sfascia tutto, mentre c'è una situazione che degenera progressivamente, mentre gli albergatori cominciano a gridare che non ce la fanno più a sopportare una situazione del genere, perché dicono siamo di fronte a una nuova mazzata che si abbatte su questo settore, dopo che la Banca d'Italia ha certificato che nei primi otto mesi del 2021 la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia è diminuita di quasi 19 miliardi di Euro, con un calo del 61,4% rispetto al 2019, quindi una nota che lascia capire quale sia il clima e in cui questo nuovo decreto in vigore dal 15 dicembre segnerà l'obbligo della terza dose previsto per tutti quei professionisti e tutti coloro che dovranno immunizzarsi secondo le indicazioni a forza o sospesi dal servizio se non si adegueranno, se non si sottometteranno a questi diktat e per tutte queste persone le scamotage del tampone non varrà più perché chi vorrà lavorare di fatto sarà obbligato a vaccinarsi oppure sarà buttato in mezzo alla strada, potrà prendere esempio gli anacoreti e ritirarsi nelle caverne e quindi scegliere una via che è quella dell'esidio, della persecuzione. Secondo i sindacati tra i 98 mila agenti di polizia circa 10 mila non sono vaccinati, siamo sul 10%, tra le forze armate invece si parla di 44 mila uomini che sarebbero ancora senza vaccino, più o meno siamo al 16%, mentre nella polizia penitenziaria si parla di altre 12 mila persone che sono più del 30% e con queste cifre vedremo che cosa accadrà soprattutto perché tutto questo come nel settore sanitario, come nel settore scolastico aprirà delle falle dal punto di vista della gestione delle attività ordinarie che vedremo come sapranno risolvere questi signori. E intanto vedete mentre qui si lancia la gara a chi terrorizza più le persone, anzi spaventate, terrorizzate anche i bambini, tanto le avete già massacrati abbondantemente in questi due anni e adesso la Commissione europea, questo grande, questa meraviglia della Commissione europea si cimenta in nuove assurde linee guida per imporre il linguaggio politicamente corretto e depurato da riferimenti di genere e di religione. Sapete che adesso con il Natale cosa ci dice la Commissione europea? Che si sconsiglia adesso, non citate, non nominate il nome di Maria perché è un nome troppo cristiano, ha qualcosa di assolutamente che è sconveniente in questo modo, che può irritare, può dar fastidio all'opinione pubblica che non è cristiana, che è infastidita da questi simboli natalizi, anche il nome Giuseppe non piace tanto, il nome Giovanni, vedete questo emerge da un documento intitolato l'ineguida della Commissione europea per una comunicazione inclusiva che è stato diffuso proprio risonoto dal quotidiano Il Giornale e come destinatari di questo sussidio ci sono tutti i dipendenti, i dirigenti dell'Unione europea, quindi è evidente che l'obiettivo è quello di indottrinare, è un obiettivo pedagogico che vuole stravolgere le ultime categorie che cancellino anche i riferimenti, qualsiasi riferimento, sradicamento totale di ogni riferimento cristiano che poi tradotto in termini concreti vuol dire che non si devono più usare frasi come periodo natalizio a favore per esempio di un più generico periodo delle vacanze, guai a parlare del Natale e il culmine dell'assurdità comunque la raccomandazione a non usare i nomi cristiani come Maria o Giovanni, privilegiando ne dicono altri, ce lo suggeriscono loro, perché non li chiamate Malica o Giulio? Perché se si volesse attenersi in un modo scrupoloso a queste prescrizioni bisognerebbe vietare tutti i nomi dei santi, ma visto che la grande maggioranza dei nomi europei hanno radice giudaico-cristiana, come si fa a sdedicarli tutti di colpo? Ebbè ma ci sarà qualcuno che come quelli che si sbattezzano potranno anche cancellare il nome e ribattezzarsi o rinominarsi se preferiscono con i suggerimenti dell'Unione Europea, cioè tipo Malica o qualcosa di simile. E vedete addirittura poi si consiglia di smetterla una volta per tutte e di usare delle parole anche rispettabilissime di professioni come quella di operario o di poliziotto, che sono al maschile, capite? Poliziotto, operario, non si devono usare, perché sono discriminatorie ferocemente, poi guai a salutare l'uditorio con il tradizionale signori e signore, meglio cari colleghi, ce lo dicono, ce lo consigliano, sapete? E quando scegliete un'immagine, per esempio per accompagnare la vostra comunicazione, dovete sempre assicurarvi che le donne e le ragazze non siano rappresentate in ambito domestico, per esempio in ruoli passivi, mentre gli uomini sono attivi, avventurosi, perché i ruoli si scambiano, i ruoli sono intercambiabili, non siamo necessariamente sempre uomini o sempre donne, siamo fluidi, possiamo diventare quello che vogliamo e allora guai a etichettare qualcuno perché potrebbe anche arrabbiarsi. Ne ha pagato le conseguenze un bravo sacerdote di Messina, un bravo sacerdote che ha semplicemente durante alcune sue omedie detto che c'è qualcosa qui che non funziona, soprattutto su questa pressione vaccinatoria che sta sconvolgendo tantissime persone, le vite delle stesse famiglie. E allora il Vescovo di Messina ha intervenuto immediatamente, dando il divieto assoluto di parlare con i giornalisti, non deve più parlare questo sacerdote, Don Giuseppe Agnello, un sacerdote molto devoto, molto bravo, non deve più parlare con i giornalisti, ma non deve più nominare, ha detto il Vescovo per il futuro, la parola vaccino, non la deve più dire, non la può usare, la può usare solo il Vescovo. È stato molto categorico l'Arcivescovo di Messina con questo sacerdote che è finito nella bufera, ma comunque in maniera molto chiara è stato praticamente richiamato ferocemente all'ordine e adesso vedremo cosa succede. C'è un giornale di Messina, si chiama il Messina Today, che l'ho intervistato e lui ha dichiarato, dice ho già parlato apertamente, non devo aggiungere altro perché dice poi sapete alla fine, cari fratelli, passa la scena di questo mondo, quindi passa avanti diciamo con un riferimento alla lettera di San Paolo dei Corinzi e anche poi a tutto il fango che gli stanno buttando addosso questi forcaglioli, dicendo appunto, ma sì, tanto passa la scena di questo mondo, poi arriva il momento dell'ora di Dio, della sua giustizia. E proprio, cari amici, cambiando proprio orizzonte, guardando quello che succede a livello internazionale, nella mattinata di tre giorni fa proprio c'è stato un incontro molto importante, passato, anche qui sono naturalmente sotto silenzio, non si dice nulla, in cui sono stati siglati tra Italia e Francia, pensate, degli accordi per una cooperazione bilaterale rafforzata tra Francia e Italia, quindi alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Mario Draghi e Emmanuel Macron che hanno stretto questo accordo. Ci sono tante novità che prevedono questo accordo, per esempio, una molto interessante è la creazione di una unità operativa di polizia, e come mai un'unità di polizia operativa italo-francese, per rafforzare i controlli, la sicurezza, ma nei confronti di chi? Nei confronti dei criminali? No, forse nei confronti dei cittadini, sapete, perché potrebbe essere, dicono, uno strumento utile per il perseguimento degli obiettivi europei di sicurezza e difesa, tra cui, sapete, c'è quello della salute globale, la gestione della crisi e in particolare la persecuzione dei crimini di odio. Capite, questi sono, diciamo, le strutture che si mettono in atto, vedete, con questa cooperazione che stringe sempre di più le maglie repressive e lascia intravedere qualche cosa che forse ancora i coloro che aspirano a fare l'ultimo giro di waltzer, mentre le titaniche sta affondando, non hanno ancora capito, non si rendono conto di quello che sta accadendo. Ma vedete, cari amici, questo Natale di grandi sofferenze, di grandi prove, di grandi difficoltà, ci ricorda che il Signore viene, vedete, anche quest'anno, il Signore viene nell'obbedienza al Padre e noi dobbiamo attendere la sua venuta con l'essere a nostra volta obbedienti al volere della Santissima Trinità. E ci ricorda in una lettera molto bella, proprio per la preparazione a Natale, per questo avvento con il Signor Viganò, che il motivo per cui possiamo essere certi, vedete, che il Signore verrà a cercarci, liberandoci dall'assalto dei lupi e dalla nefasta influenza dei cattivi operai e mercenari, è che non dobbiamo dimenticare ciò che Egli ci ha ordinato, non dobbiamo prendere il suo posto, decidendo noi cos'è bene e cos'è male, non dobbiamo seguire la moltitudine che va nell'abisso per rispetto umano, per pavidità, per complicità, ma rimanere come le 99 pecore nei pascoli sicuri della Santa Chiesa, poiché i lupi rapaci non possono attaccarla finché le pecore stanno sui monti, più vicine a Dio, sui monti si avvicinano a Dio e sono distaccate dalle cose terrene. E anche noi, cari amici, dovremmo proprio fare questo esercizio, in questo isolamento, in questa repressione, in questo spogliamento da tutte le cose, ritirarci in qualche modo in zone di meditazione, di isolamento, no? Dice Mazzino Viganò, parimenti, dobbiamo esercitare la santa umiltà, riconoscendoci innanzitutto peccatori. Vieni a cercare la sola pecora che è errato, perché tu solo sei in grado di far tornare indietro la pecora errante e non rattristerai quelli da cui ti sei allontanato. E questo era il motivo con cui i cattolici di tutti i tempi, quelli rimasti fedeli, al sicuro dai lupi negli alti pascoli, appunto si rallegravano, vedete, nel ritorno anche di un solo peccatore all'ovile. E poi, cari amici, conclude questa bellissima lettera, questa meditazione, Mazzino Viganò, dicendo portami sulla croce che dà la salvezza agli erranti, nella quale soltanto c'è riposo per gli affaticati, nella quale soltanto vivranno tutti quelli che muoiono. Tutto orbita, cari amici, intorno alla croce di nostro Signore Gesù Cristo, che si innalza nel tempo, nell'eternità, come un segno di contraddizione, perché ci ricorda che essa è strumento di redenzione. È salvezza degli erranti, riposo degli affaticati, vita per i moribondi. E il Signore, vedete, ci sono alcune immagini del passato in cui veniva raffigurato come l'uomo che sale sulla croce con una scala. Si vede Gesù che sale su una scala e va a posizionarsi su questa croce. La scala virtutum, che proprio vuole enfatizzare questa volontarietà, cioè la scelta libera verso il sacrificio, in un paradosso quasi, e che si trova con altre immagini, come quelle in cui si vede Gesù bambino che dorme sulla croce. È un'allusione all'amore divino, al sacrificio di Cristo, quindi in cui si fondono in qualche modo Natale e Pasqua, che sono intrinsecamente legate. Così, nella preparazione della nascita del Salvatore, dobbiamo sempre contemplare come centro e fulcro proprio la croce su cui riposa il piccolo Gesù e sulla quale sale, tramite una mistica scala, l'agnello immacolato. È lì, diceva il Signor Viganò, che dobbiamo arrivare anche noi, perché è solo sulla croce che troviamo salvezza, nella sequela del Signore. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Cari amici, sia questa la nostra invocazione durante il sacro tempo dell'Avvento, per prepararci spiritualmente a tutte le prove che ci attendono. In questo spirito in cui troviamo la quiete, la serenità, la pace all'ombra della croce del nostro Signore, entrando misticamente nella grotta del presepio, che quest'anno in modo particolare dobbiamo riscoprire, auguro a tutti voi, cari amici tele-radioascoltatori, una buona giornata. Laudetur Jesus Christus. Grazie. 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 Grazie.